Sì, dai, guardiamo il paesaggio, andiamo a fuoco. Domani sto lì col tempo. No, ma la verità è la verità. Saluto anche agli amici di Alce Nero, buongiorno! Vai piano, eh! Buongiorno Alce Nero! Ragazzi, trada bianca d'asfalto, biciclette in vario modo. È sempre bellissimo ritrovarsi. Cosa hai detto Matteo? Oh mio Dio, stai benissimo, stai benissimo. Il dubbio, lui, come sia. Non ti sta seguendo! Non ti sta seguendo! Giuro, 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 ho la traccia, ho la traccia. L'hai copiata!